Professore Foresta, parliamo adesso del vaccino e della sua iniziativa di diffonderlo molto, estenderlo in modo importante agli uomini maschi, ma oltre a una certa età. Ci racconti che cosa è emerso dalle sue ricerche? Intanto abbiamo due tipi di vaccini, il tetravalente e il non avalente. Sempre per l'HP. Sì, il tetravalente è contro quattro ceppi, tutti quattro ad alto rischio per tumore. Il non avalente è invece contro nove ceppi e quindi ricopre una difesa più ampia, comprendente sempre i ceppi che sono ad alto rischio per tumore. Il vaccino è gratuito in Italia dai 12 ai 18 anni per quanto riguarda i maschi, dai 12 ai 25 per le donne. E per le donne se esistono delle manifestazioni di infiammazione, di infezione da papillovavirus sul suo livello della cervice, il famoso CIN2, si può continuare ancora a dare il vaccino per questo motivo. L'uomo a 18 anni finisce a meno che non abbia una coinfezione da HIV, perché la coinfezione da HIV prevede una ridotta capacità immunologica di difesa e quindi si può andare un po' più avanti. Così come possono arrivare fino a 25 anni quei ragazzi che hanno una sessualità di tipo omosessuale, che c'è comportamenti a rischio della sessualità. In questi casi è previsto il prolungamento. Il problema è che, come dicevamo prima oggi, per quanto riguarda la donna, in realtà dopo i 26 anni le probabilità che abbia delle infezioni si riducono drasticamente, perché ha già prodotto anticorpi che le bloccano. Per l'uomo questo non accade. Per l'uomo la suscettibilità all'infezione è uguale sempre dai 15 anni fino ai 60 anni. Quindi l'uomo, anche l'uomo adulto, avrebbe necessità di essere coperto, soprattutto alla luce di quelle due manifestazioni che abbiamo evidenziato prima, che sono il tumore del loro faringe, che è in crescita ed è quasi sempre HPV positivo, soprattutto per quanto riguarda l'infertilità, ce n'è tanta di infertilità per cause maschile, e soprattutto perché l'uomo rimane serbatoio infettante le donne per tutto l'arco della vita. Fosse solo quello di eliminare questa capacità di trasmettere l'HPV dall'uomo alla donna per tutta la vita, l'uomo meriterebbe di essere, come dire, trattato con attenzione e quindi il vaccino dato anche agli uomini adulti, se vogliamo interrompere questo circuito. Quindi vuol dire che un uomo per tutta la vita, anche a 64 anni, facciamo l'esempio, 65, può infettare? Certo. Così come se ne avesse 20. Il dermatologo specializzato in malattie venere può capire se si è affetti da papillomavirus? Certo, il dermatologo specializzato in malattie venere è sicuro, ma anche l'urologo che è specializzato in patologie genitali è in grado di avere una visione molto chiara di questo fenomeno. Ecco qui, per cui voi avete proposto l'estensione almeno fino a 45 anni. Noi abbiamo proposto l'estensione fino a 45 anni. Del vaccino. Sì. Del vaccino. L'adulto, una persona di 50 anni, può farsi vaccino? E serve a qualcosa? Beh, il vaccino se lo può fare pagandoselo, se lo possono fare tutti. Quindi non c'è una limitazione all'acquisto del... Perché il vaccino in presenza del virus, oppure a livello preventivo? Ma adesso è passata, noi siamo stati antesignani in questo, l'ipotesi della utilizzazione del vaccino in presenza del virus. Non come terapia antivirale, cioè non nel senso che il vaccino è in grado di agire sul virus e quindi ne bloccarne poi la crescita e lo sviluppo. Ma nel sistema immunitario. Ma soltanto per indurre il sistema immunitario ad agire con più determinazione sul virus, eliminandolo. Quindi non è una terapia, come dire, anti-HPV. È soltanto una modalità di eliminazione attraverso il sistema immunitario dell'organismo. Infatti noi, i maschi infertili, come primo provvedimento terapeutico utilizziamo proprio il vaccino. In cinque mesi eliminiamo in quasi tutti quanti l'HPV. Mentre per le donne è stato proposto la continuazione del vaccino quando c'è un'infezione con manifestazioni cliniche HPV dipendenti come il Cine2, questo è un esempio. E in letteratura ci sono addirittura delle segnalazioni di utilizzo del vaccino in donne sottoposte già ad intervento chirurgico per tumore della cervice e parrebbe che l'utilizzazione del vaccino limitasse di molto la possibilità di riproduzione di metastasi del tumore stesso. Volevo chiederle proprio questo. È un tipo di tumore, quello provocato dall'HPV, che può essere... La metastasi. La metastasi, quindi questo è molto grave. E pare che con l'HPV, con il vaccino, ci sia una riduzione di queste risposte metastatiche che è molto interessante. State ancora raccogliendo i dati, immagino, un pochino di sperimentazione. La copertura del vaccino, la certezza di non prendere questo virus? Quel tipo di sicuro sì, soltanto che anche laddove il vaccino non sia ceppo specifico, quindi che produca... mi spiego bene. Ogni ceppo ha un tipo di anticorpo che lo riconosce, però l'anticorpo specifico per quel ceppo può avere una reazione crociata anche con altri. Quindi il non avalente colpisce nove ceppi, però ha una reazione parziale crociata anche con altri ceppi. Quindi in ogni caso è una protezione parziale, ma è molto più importante. Quindi meglio il non avalente. Ci sono delle controindicazioni al vaccino? Come tutti i vaccini, nessun tipo di... Ormai è stato sperimentato su milioni di persone, non è stato riportato a nessun tipo di problema, di controindicazione. E perché non si fa questa campagna un po' più estesa, vista la pericolosità di questo virus, il fatto che è così subdolo, così diffuso, provoca tutte queste conseguenze, quindi anche costi di carattere sanitario, per far sì che anche a livello volontario, per carità, però le persone, e anche gli uomini poi, soprattutto perché nelle donne si agitano in un certo modo, poi sappiamo che nelle donne è un decorso diverso, più benevolo, diciamo, meno nefasto. Ma perché le conoscenze tra questo virus e le manifestazioni cliniche sono in divenire quotidiano? Lei pensi che quando è stato immesso in circolazione questo vaccino era soltanto per le ragazze dai 12 ai pochi anni, ai 15, 16 anni? Adesso invece siamo arrivati a uomini e donne, siamo arrivati ad età fino a 25 anni, abbiamo individuato dei sottogruppi che possono andare avanti proprio perché hanno delle possibilità di aggressione dal virus ancora più importanti, cioè le conoscenze si stanno sempre più accumulando e chiarendo bene i confini di questo problema. E poi c'è una questione di economia sanitaria, per la quale io non spendo neanche una parola, non essendo esperto di questo, ma di sicuro sono convinto che debba essere quella la strada, perché se io penso al mio campo d'azione sulla fertilità, se il 20% di quelli che vanno a fare fecondazione assistita non riesce perché c'è il virus, penso a quanti soldi abbiamo buttato, a quante emozioni abbiamo perso, a quanti disturbi proprio comportamentali e psicologici abbiamo sottoposto le nostre coppie per fare quel tipo di progetto, quel tipo di programma, quando potevamo individuarlo prima ed essere più attenti. Nell'uomo l'infertilità, perché praticamente aggredisce gli spermatozoi, nella donna tumore della cervice e infertilità oppure poliabortività? Poliabortività, è stata riportata poliabortività nella donna. Se si riesce invece, avviene la fecondazione con uno spermatozoico che magari meno colpito dal virus di altri, ma ugualmente portatore del virus, il feto può incontrarlo? Ma sì, sono state riportate, ma noi stessi abbiamo fatto una sperimentazione ancora nel 2010 utilizzando degli ovociti di topo. Esiste un test di laboratorio consolidato che mette a contatto gli ovociti di topo con gli spermatozoi umani. Gli spermatozoi umani possono penetrare nell'ovocita e lì si fermano perché non c'è nessuna possibilità che possa andare avanti, l'uomo topo non nasce perché si blocca tutto quanto lì. Si chiama test di hamster test o di penetrazione. E noi abbiamo infettato degli spermatozoi con il virus dell'HPV e siamo riusciti a documentare che qualcuno che si muoveva ancora in modo tale da penetrare l'ovocita di hamster portava dentro l'ovocita proprio i geni del virus. Quindi è una dimostrazione nostra del 2010 che dimostrava come uno spermatozoico potesse traghettare nell'ovocita dell'hamster l'HPV. Chiaro, però dopo non si può sapere insomma che conseguenze può riportare un bambino. No, mi astengo da qualsiasi. Infatti, comunque siccome ci sono le difese immunitarie che possono combatterlo dopo un tanto di tempo si auspica che, visto che i bambini ce le hanno anche molto attive, possono in qualche modo combatterlo. Benissimo dottore, quindi professore queste sono delle risultanze di carattere scientifico che voi avete ottenuto, ma le ricerche sono in corso. No, assolutamente sì, non ci siamo mai fermati, infatti abbiamo visto tante cose in questo campo ma abbiamo delle proiezioni che sono in corso e conviene tenerle ancora in corso. Assolutamente sì, fino a delle evidenze scientifiche come definite voi. Conviene tenerle in corso. Allora, noi la ringraziamo tantissimo di queste importanti sollecitazioni anche dovute a delle ricerche e anche dei dati purtroppo certi perché i numeri che lei ci ha citato sono frutto di indagini certe. E detto questo, le auguriamo un buon lavoro perché so che la vostra echipa è iperimpegnata. Comunque la Fondazione Foresta fa gli accertamenti, fa anche gli intervieni in questo senso. Grazie ancora professore. A voi cari telespettatori speriamo di essere stati utili. Se non altro informatevi, non lasciate perdere se avete del dubbio piuttosto fatevi controllare che è meglio prevenire che poi dover curare le conseguenze. Buon proseguimento, a presto. Grazie a tutti.